Signor Damilano, lei è l'inventore del Fit Walk in Italia, che è una risorsa a costo zero per le nostre città e per la nostra salute. Come possiamo sensibilizzare ed educare i cittadini dell'importanza a camminare? Sicuramente quello della sensibilizzazione è un ruolo determinante. Il cittadino deve essere consapevole di come, utilizzando la città in maniera diversa, tornando per certi versi a riutilizzare di più le proprie gambe, si hanno vantaggi non solo per la propria salute personale, ma anche per quello della città e dei cittadini in senso generale. Città riviste, città revisionate, città che guardano anche ad un'urbanizzazione nuova. Basta pensare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che nel 2050 7 cittadini su 10 vivranno nelle grandi metropoli. Questo significa un problema importante da affrontare sul piano della salute e sul piano anche della qualità di vita in città. Se dovessimo consigliare appunto alle persone dove trovare i corsi, dove trovare le informazioni, che cosa possiamo dare a loro? La via più semplice è sul nostro sito www.fitwalking.it. Si trovano tutte le informazioni sull'attività, su cosa è questa disciplina, su come affrontarla, ma soprattutto anche l'albo degli istruttori, quindi delle persone che sono abilitate ad insegnare questo percorso e quindi a realizzare i corsi di avviamento alla pratica, che facilitano sicuramente poi le persone nell'avere questi riferimenti.